Ciao, sono Marzio, sono uno psicologo e specializzando psicoterapeuta e sono un attivista di Fridays for Future e oggi vi parlerò del movimento. Il movimento nasce nel 2019 in seguito alle azioni di Greta Thunberg, giovane svedese che per ogni venerdì dall'agosto del 2018 appunto da lì deriva il nome Fridays, Fridays for Future, venerdì per il futuro scende ogni venerdì in piazza di fronte al Parlamento svedese con un cartello sciopero per il clima e da lì in pochi mesi si struttura un movimento internazionale e nazionale quindi anche qua in Italia dove si organizzano delle manifestazioni dei cortei molto imponenti con una grandissima partecipazione di pubblico, persone, comunità e questo è anche un po' il tratto distintivo di Fridays for Future, il fatto di scendere in piazza e organizzare cortei inclusivi per la popolazione per sensibilizzare sicuramente in primo luogo rispetto alla crisi climatica e a tutte le azioni che a livello singolo, collettivo e gruppo, sociale possiamo intraprendere per contrastare la crisi climatica e per mettere pressione alla politica per agire contro la crisi climatica. abbiamo nel corso degli anni anche strutturato, ideato, pensato a diverse soluzioni una di queste è sicuramente Agenda Climatica che si può trovare sul nostro sito che pone in cinque punti alcune delle soluzioni che secondo noi sono le più efficaci per contrastare la crisi climatica declinate nel contesto, nel territorio italiano con anche tutte le coperture di fondi e soldi che ci vorrebbero per fare una transizione ecologica ed energetica è complicatissimo ma è necessario farla per questo anche abbiamo da subito aderito a Revriters, al manifesto di Revriters ci troviamo molto vicini a tutti i valori che sono promulgati quindi occupandoci di ecologia, di giovani e di intersezionalità sia rispetto all'età sia rispetto ai temi ecco non solo dobbiamo ripensarci come comunità non più come individui ma come comunità che agisce e ha un impatto sul territorio ha un impatto quindi non solo poi sulle nostre città, sulle nostre regioni, sulla nostra nazione, paese ma anche poi trasversalmente a tutto il pianeta perché siamo tutti e tutte su questo pianeta e la crisi climatica ci riguarda e quindi come Fridays noi crediamo che tramite un'azione collettiva di pressione verso la politica e di azioni in vario modo con le quali possiamo contribuire a risolvere la crisi climatica è come ho detto complicatissimo ma è necessario farlo perché siamo stati sempre abituati a guardare la transizione ecologica la transizione energetica come quasi a volte una minaccia, come una difficoltà però invece dobbiamo iniziare a vederla come una possibilità, come un'alternativa come al fatto che magari possiamo attraversare le nostre città più o meno grandi in modo sicuro, senza inquinamento, senza smog, con i trasporti pubblici magari gratuiti per le fasce meno ambienti che ci portino da una parte all'altra della città un turismo sostenibile, moda, allevamento, quindi anche lo stile di alimentazione il modo di vivere, tutte queste cose che stanno sotto il cappello della crisi climatica che fa appunto da cappello a tutta una serie di altre crisi che vediamo in questi mesi e in questi anni quindi sostanzialmente dobbiamo vedere l'opportunità e la realizzabilità di una transizione ecologica come qualcosa che in realtà ci porta verso un'alternativa sostenibile, veramente sostenibile di un futuro nel quale poi noi possiamo godere del nostro pianeta senza governarlo, senza distruggerlo, ma essere in armonia e in sintonia con ciò che ci circonda con il nostro ambiente, con il nostro pianeta, con il clima che vediamo sempre di più surriscaldarsi, lo proviamo sulla nostra pelle e ne vediamo già gli effetti anche nocivi da gennaio in Sicilia oltre 100 comuni sono in emergenza idrica a Barcellona, praticamente dietro casa, dietro l'angolo e noi vediamo come quel territorio sia in siccità da tre anni ecco, queste cose ancora le stiamo vivendo di meno nel nostro territorio in altre parti del mondo che sono nemmeno responsabili per la crisi climatica già subiscono gli effetti peggiori di questa crisi ciò che noi vediamo, alluvioni, frane, inondazioni danni da miliardi di euro, dollari che fanno già morire le persone ecco, tutte queste cose potremmo vederle nel breve e medio futuro anche nel nostro paese, anche nel nostro continente sempre di più, come già abbiamo visto negli scorsi mesi perciò per questo bisogna agire per la transizione ecologica ed energetica non solo per proteggere il pianeta ma anche per vederlo come un'opportunità di una migliore vita, di un migliore pianeta col quale possiamo essere in sintonia e vivere davvero bene davvero in modo sostenibile Rewriters La tua voce per un mondo migliore